Salve, salve, Polidoro è stato più o meno fatto a pezzettini da Mazzucco su quel video farsa sull'omicidio di Kennedy, ma vi faccio vedere qualcosa Allora, voi vedete che questa persona ha 1075 non mi piace e 2348 mi piace e che è un alto numero di non mi piace considerando che sta su questo canale suo Guardate, questo ho scritto io Dopo le cazzate sull'assessione Kennedy questo soggetto non ha nessuna credibilità parla degli altri come se parlasse di se stesso Cosa c'è di strano? Ve lo dico io cosa c'è di strano Che se io cambio account e vado su un altro account mio adesso andrò vedete che magicamente magicamente guardate a me questa persona mi è veramente antipatica a quest'aria da saccente che tutte le teorie alternative sono tutte costantemente sbagliate quindi per chiedo vedere i video suoi basta sapere di cosa si occupa e saprò automaticamente che secondo lui è falso allora vedete che fa? non c'è più perché mi ha bloccato cosa vuol dire ragazzi questo? che i commenti che trovate sotto lui sono pochissimi contrari a lui sono lasciati tutti quelli che ce l'hanno con lui vengono bloccati questo vuol dire che se non hai un altro account perché non ti risulta a te tu credi di scrivere credi di scrivere in realtà non lo vede nessuno questa è l'onestà intellettuale del signor Massimo Polidoro che fa tanto la persona così logica, razionale e a modo però falsifica perché è falsificare parliamoci chiaro tutti i dati contro di lui cioè i commenti contro di lui di persone che ce l'hanno contro di lui vengono silenziate quindi vedremo che quasi tutti i commenti sono tutti a favore suo se uno facesse una statistica la metà dovrebbero essere diciamo un terzo due, tre, sì un terzo dovrebbero essere contro di lui ebbene no ecco arrivederci